La Travelmar riparte riprendendo i collegamenti per la costiera e lo farà nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale. Sarà a tutti gli effetti un distanziamento romantico accompagnati da un panorama unico al mondo e da un vero amico, il mare. Mostreremo quanto fatto, dichiara Marcello Gambardella, CEO della Travelmar. Durante il periodo di confinamento i nostri equipaggi hanno seguito un corso online in materia di sanificazione degli ambienti. Tutto l'equipaggio sarà infatti dotato di dispositivi di protezione personale, una riduzione del numero di passeggeri al fine di garantire a bordo spazi più ampi. È chiaro che aumenteremo navi e corse in relazione a quelli che saranno i flussi di utenza. La Travelmar ha ben 22 anni di storia e nel 2019 numeri da record, con loro il primo esperimento della metropolitana del mare alla fine degli anni 90. L'azienda spiega le vele nel 1998, quando i fratelli Marcello, Salvatore ed Andrea Gambardella si propongono l'ambizioso progetto di dare avvio al primo esperimento di metropolitana del mare, creando collegamenti marittimi tra la città di Salerno e la bella costa d'Amalfi. Si trattava di una vera e propria scommessa, considerando che la costiera non è un'isola. Perché mai raggiungerla via mare? Continua Gambardella. Nel 2019 siamo riusciti a raggiungere un numero davvero importante di passeggeri, in gran parte stranieri, circa 7.000 al giorno, sforando il tetto di un milione di passeggeri e chiudendo la stagione esattamente trasportando ben 1.300.000 persone in costiera amalfitana. La costiera amalfitana è sicurezza, con un territorio che non ha registrato morti e paesi a zero casi. Mostreremo alla stampa come sarà possibile viaggiare e raggiungere in sicurezza la costiera. Ora più che mai il miglior modo per prenderci veramente cura della nostra terra è cambiare stile e spostarsi via mare.